buongiorno a tutti vi do il benvenuto ad una nuova puntata del caffè con l'esperto oggi giochiamo in casa infatti vi presento i miei colleghi antonio cesarano chief global strategist di intermonte buongiorno antonio buongiorno e saluto anche marino masotti capo redazione di websim buongiorno marino buongiorno cara buongiorno antonio buongiorno a chi ci segue oggi non voglio rubare troppo tempo al nostro esperto quindi io vi dico solo velocemente che se avete domande potete scriverle nel box appunto delle domande e se abbiamo tempo rispondiamo in diretta oppure risponderemo via email quindi io passerei subito a te la parola marino da interpellare il nostro esperto allora io direi che una piccola considerazione su maggio che è un mese statisticamente poco favorevole le borse nelle prime due settimane praticamente non è successo niente a wall street ma forse anche nella maggior parte dei mercati azionari poco successo anche mercato laterale anche per quando riguarda le obbligazioni quindi c'è spazio tempo anche un po più di disponibilità a vedere cosa sta succedendo i due temi da seguire come sono come al solito inflazione che dati dicono che sta scendendo sempre più dati sempre più indicatori ci confermano che sta sta rallentando e dall'altra parte invece una frenata economica la recessione quindi che si sta avvicinando ecco cosa c'è ci è arrivato la settimana scorsa settimana che ripetiamo dal punto di vista borsistico stata interlocutoria però sono arrivati indicazioni importanti che ci dicono dove stiamo andando perché da qui tra da questo scenario recessione inflazione ne discende poi quello che si va a comprare quello che va evitato e antonio a te la parola sì dunque la discussione in corso è ancora un po si ci si dibatte tra se ci sarà o meno una recessione negli stati uniti nella seconda parte dell'anno i fautori del pro e del contro e ogni settimana poi abbiamo degli argomenti che si aggiungono a favore di una tesi o dell'altro diciamo che adesso è una parola molto utilizzata la parola recessione per la seconda parte dell'anno però ci sono anche degli non tutti indicatori sono diciamo coerenti un indicatore che non va in questa direzione in questo momento e la forza dell'economia statunitense soprattutto relativamente ai servizi in particolare se lo vediamo nella slide ecco qui è l'ism dei servizi il direttore dell'area acquista lo vedete sopra l'area 50 quella che delimita soglia di espansione e contrazione vedete che siamo ancora in una zona di espansione questo è uno degli argomenti che sostiene bene o fino a quanti servizi rappresentano i due terzi dell'economia sono così forti è impensabile un'economia e anche perché il mercato lavoro sta tenendo ancora abbastanza bene sebbene con qualche segnalino di indebolimento chi invece sostiene e quindi c'è annovera l'ipotesi che in realtà la recessione ci sarà poi da vedere se forte media debole eccetera e guarda più alti indicatori uno tra questi abbiamo la slide successiva il fatto che le banche statunitense stanno cominciando a restringere il credito cioè frutto anche della crisi che abbiamo avuto nelle banche regionali in particolare cominciano a essere un po più eh severe quello vediamo questa linea azzurra che sale e la percentuale delle banche che eh dichiara che vuole restringere i criteri del credito in pratica andate a chiedere un mutuo e la percentuale di chi dirà no non posso d'altro tende a salire in rosso vediamo un indicatore che utilizzo come anticipazione di quello che potrebbero le banche fare in sostanza se i tassi sui mutui sono molto più alti dei rispettivi tassi sui titoli di stato e indicazione che forse le banche stanno diventando un po più cattivi quindi meno credito in prospettiva le banche che preservano l'equidità e più caro un altro elemento lo vediamo il punto di vista questo sempre a favore delle ripotesi di recessione cosa vedono i consumatori ecco quando i consumatori alzano lo sguardo in ottica sei mesi eh sono molto più pessimisti rispetto alla condizione correnti qui in blu e la differenza appunto da queste due percezioni questo vuol dire sì le cose non vanno male adesso ma da qui a sei mesi le vedo peggio e questo diciamo contrasto tra breve e lungo in genere in passato è stato quando peggiorano molto le cose a lungo rispetto al breve un'anticipazione della possibile recessione quindi andiamo verso una recessione ci hai fatto vedere diciamo dei buoni argomenti a favore di questo anche se però ci sono altri elementi che spingono a dire ma se ci sarà forse non ci neanche ci sarà non sarà poi così grave e dall'altra parte ne abbiamo parlato un po' di meno ma perché comunque lo vediamo in atto da parecchio tempo l'inflazione siamo nell'ultima puntata o la penultima puntata della stretta monetaria perché l'inflazione sta scendendo tutto questo cosa ci indica dove ci spinge a puntare sulle obbligazioni quindi secondo te questo è un buon momento per diciamo incrementare la propria esposizione verso i bond beh sì se andiamo verso uno scenario di rallentamento barra recessione recessione riferisco soprattutto agli stati uniti l'ipotesi che i tassi progressivamente ricominciano un po a calare soprattutto i tassi che vanno oltre il brevissimo quindi oltre tre mesi e questo significerebbe tassi più bassi prezzi dei bond più alti complessivamente a partire da quelli statunitensi è chiaro che se guardiamo oggi le condizioni dei tassi rispetto a quello che l'inflazione oggi beh non sarebbero essere appetibile che abbiamo ancora livelli di inflazione abbondantemente sotto al 5 6 per cento a seconda delle aree con dei tassi che anche nel caso statunitensi sono un po più alti oggi sul decennale siamo vicini al 3 e mezzo per cento in realtà quello che viene visto soprattutto se si ragiona su tassi con scadenze un po più lunghe non è tanto l'inflazione oggi ma quella che viene percepita essere l'inflazione fra un anno probabilmente avremo un'inflazione più tra verso il 3 4 per cento ci vuole un po di tempo che l'inflazione cali ed è quello che probabilmente è quello che rende a mio avviso soprattutto appetibili i tassi nominali ad oggi e negli ultimi giorni la settimana scorsa se non sbaglio il tesoro che ha fiutato diciamo così il buon momento si è fatto avanti annunciando l'arrivo di una nuova famiglia di investimenti di buoni del tesoro per le famiglie le piccole i piccoli disfammiatori italiani e però il btp resta c'è sempre questa incognita diciamo così della debita il debito italiano molto alto dallo spread che potrebbe muoversi devo dire tranquillo da parecchio tempo ma ormai c'è il dibattito poi sul messo l'approvazione tutte queste cose in tutto questo comunque venerdì è arrivata fitch che ci ha detto tranquilli confermiamo il giudizio ecco come come lo valutiamo il btp rispetto agli altri bond agli rispetto alle altre possibilità di investimento sul mondo altre o tre giuri per esempio dunque ci sono delle tematiche che ovviamente afferiscono in italia mentre da qui a giugno in particolare entrano nel focus riferisco non solo le discussioni sul patto di stabilità e crescita va rivisto in ottica 2024 ci sono delle scadenze grosse del ttro a fine giugno circa quasi 500 miliardi di euro di cui circa 140 145 miliardi a carico delle banche italiane c'è il tema della discussione del ricepimento del mess tutte tematiche italiane e poi ancora dobbiamo incassare due tranche una almeno l'altra a giugno di pnr questi sono i temi un po più che riguardano italia in senso stretto fitch però ha rialzato le stime di crescita del 2023 apportate dallo 0 5 all 1 e 2 per cento complice ad un'ottima partenza da primo trimestre è stato ben supportato dai servizi e anche ha citato il fatto che potrebbe esserci in prospettiva una maggiore stabilità politica quindi maggiore certezze che quello che il mercato vuole sostanzialmente vedremo venerdì prossimo mudis cosa ne pensa e che tra l'altro è quella più che ci tiene più al limite dell'investment credo però complessivamente lo spread sta tenendo intorno ai 190 punti base è un anno denso di emissioni e probabilmente il tesoro come già cominciato a fare che sta continuando a fare appunto continuando a fare col btp valore di inizio giugno tenderà molto di più anche a chiedere a fare emissioni rivolte al riteli bene ma oltre il mondo obbligazionario quindi in un contesto in cui i tassi appunto possono iniziare a scendere l'oro è un buon investimento o no cioè possiamo iniziare a considerarlo è ottimo spunto carlo perché l'oro è sempre stato associato molto all'ipotesi inflazione genere soggetto che ci difende dall'inflazione abbiamo fatto un primo test anno scorso è stato l'anno dell'iperinflazione in diverse parti del mondo per tutti i motivi che conosciamo guerra pandemia eccetera eppure loro non ha performato bene dallo scorso anno diciamo poteva performare anche peggio quindi in temi relativi è andato anche meglio ma in termini assoluti no quest'anno invece si è avvicinata ai massimi storici è intorno vicino a 2070 2080 dollari per occia eppure l'anno in cui cominciamo ad avere qualche timido segnale di caldo dell'inflazione in prospettiva un calo più marcato se immaginiamo che i tassi soprattutto i tassi reali quindi i tassi nominali al netto dell'inflazione caleranno con immagino che accadrà negli stati uniti e soprattutto avremo condizione di liquidità più ampia l'oro potrebbe essere un buon investimento aggiungiamo un ultimo punto gli ultimi tempi si è vista anche una buona domanda da parte le banche centrali mondiali sul loro soprattutto le non allineate in chiave geopolitica cioè chi vuole diversificare di più dal dollaro verso l'oro perché ha visto che in alcuni casi estremi i dollari possono essere congelati vedete la russia fra prima fra tutte la banca centrale cinese tutto indicazione che anche loro potrebbe essere un buon investimento in ottica secondo semestre antonio e so che devi c'è già anticipato che ci devi lasciare perché il caffè lo prenda con noi come avevamo concordato proprio a un certo punto antonio ci deve lasciare perché la brioche diciamo così la prenda con un altro impegno abbiamo parlato di obbligazioni di oro però ci siamo interessati anche le azioni da inizio anno soprattutto nelle ultime settimane ci mettono da inizio anno comunque il diciamo così la categoria il settore che è andato molto bene quello dei tech noi abbiamo parlato di una recessione molto probabile anche se non già scontata cioè se non già di sicura abbiamo parlato di un'inflazione che scende ecco il fatto che il nasdaq che sta battendo alla grande il dow jones da inizio anno c'è ancora ancora senso stare su questo su questo ambito da quello dei tech sì dunque temi di performance come giustamente segnalavi abbiamo un nasdaq che metà segno torna al 20 per cento di performance da inizio anno l'S&P intorno a 7 8 per cento il russell 2000 che fotografa un po l'andamento delle aziende medio piccole negli stati uniti addirittura con segno meno intorno al menù per perde circa l'un per cento quindi un mondo molto diverso secondo degli indici che prendiamo un altro elemento che inserisco è che comunque è un andamento per quanto riguarda il nasdaq ma in parte anche l'S&P 500 molto concentrato cioè pochi titoli spiegano l'andamento dell'indice soprattutto per il nasdaq 100 dove un plotone di circa cinque o poco più titoli spiega buona parte di questa performance quali sono i nomi classici microsoft apple google amazon quelli che conosciamo tutti perché questo beh ci sono due fattori uno in tema un po più generale sono titoli molto sensibili alla liquidità qui lo vediamo in questo grafico dove in rosso in sostanza è una metrica vado troppo nel tecnico per cercare di capire quanta liquidità c'è nel sistema statunitense si parte dal bilancio della fede è l'ingrediente principale in nero vedete l'S&P 500 in azzurro il nasdaq 100 vedete come è molto correlato l'andamento del mercato azionario alla liquidità perché più liquidità queste aziende c'è nel mercato tanto più trasformano questa liquidità in buyback emettendo anche e soprattutto distribuiscono anche dividenti ed è quello che sta accadendo perché nelle ultime trimestrali titoli come google parte anche microsoft hanno annunciato grossi incrementi di buyback anche meta e che stanno finanziando proprio in questi giorni mettendo buono primo elemento secondo elemento sono titoli a duri sono lunga investono nel lungo e quindi beneficiano di uno scenario di tassi più bassi abbiamo detto se davvero ci sarà una recessione statunitense poi da vedere media deboli eccetera nella seconda parte dell'anno e poi ci sono dei fattori relativi a dei temi che stanno emergenti che potrebbero essere diciamo ci sono tutti i presupposti per essere un vero e proprio discontinuità in parte come accadde quando ci fu l'avvento di internet mi riferisco all'intelligenza artificiale non è un tema nuovo in realtà perché in realtà era già stava sotto osservazione in fase di gestazione a diverso tempo e che da dicembre scorso quando openai ha lanciato chat cbt ha un po' svelato che come può essere utilizzato dagli utenti e da lì ha costretto anche tutti quelli tutte le altre aziende grosse statunitense che stavano lavorando sul tema a cominciare a svelare le proprie versioni ultima google che ha reso noto il suo bravo della sua versione dell'intelligenza artificiale ma probabilmente vedremo ancora altre cose microsoft apple eccetera quindi si scatena un qualcosa di virtuoso questo dovrebbe accelerare migliorare rendere più produttivo insomma le aziende ci sono anche aspetti etici che vengono monitorati c'è tutta una serie tematiche anche sul tema della privacy su cui sta muovendo anche l'unione europea però sta di fatto che diventa un tema di investimento per cui in sintesi da qui a giugno po di attenzione perché abbiamo ancora alcune probabili possibili turbolenze fattato il tema delle banche regionali statunitense ci possono essere prese di profitto sì però se guardiamo in ottica secondo semestre allunghiamo un po l'orizzonte tassi più bassi condizioni di liquidità più ampie e poi questo tema nuovo che arriva questo scontro virtuoso insomma questa gara virtuosa tra le aziende dell'intelligenza artificiale potrebbe ancora riservarci qualche sorpresa positiva nel mondo della tecnologia soprattutto statunitense quindi prepariamoci alla prossima bolla dell'intelligenza artificiale perché sempre lì poi si va a finire ti ringrazio antonio e noi lo salutiamo perché come avevamo detto ci deve lasciare ma a questo punto abbiamo altre cose da raccontarvi e prima però di passare la parola a carola vorrei dirvi che se avete delle domande scrivetele nella chat magari risponderemo nei prossimi giorni e stiamo anche per presentare dei nuovi prodotti ma per questo passo la parola a carla saluto tutti saluto carola e saluto marino arrivederci alla prossima grazie io concludo velocemente e vi presento un prodotto di investimento che si sposa molto bene con la view appunto di antonio cesarano infatti oggi mettiamo in evidenza il nuovo certificato di investimento emesso da leontech che ha un capitale protetto al 105 per cento su un indice che è costituito da tre etf a replica fisica il primo etf replica il prezzo dell'oro il secondo quello di invesco che replica fedelmente il nasdaq cento e l'ultimo un paniere di treasury usa con scadenza compresa tra tre e sette anni il grande vantaggio di questo prodotto che è quanto quindi l'investitore viene protetto dal rischio di cambio è un prodotto che al regolamento a scadenza che sarà ad aprile 2028 quindi tra cinque anni in questo slide appunto potete vedere lo lo scenario a scadenza nel caso in cui l'indice chiude sotto il livello di strike l'importo garantito appunto rimborsato l'investitore di 1050 proprio perché è un capitale protetto al 105 per cento mentre se l'indice supererà il livello appunto di strike il certificato replicherà l'andamento lineare appunto dell'indice e rimborserà in base appunto all'andamento dell'indice sottostante senza cap quindi senza limiti ai guadagni io comunque vi consiglio di consultare il sito di Deontech dove appunto potete trovare tutti i documenti relativi al prodotto io inoltre volevo segnalare che da quando web sim ha cambiato stile ed è stato rinnovato è cambiata la modalità di iscrizione appunto ai nostri webinar infatti necessario iscriversi al sito di web sim che ricordo essere appunto gratuito inoltre con l'escrizione avrete diritto a un mese gratuito di prova per visualizzare tutti i contenuti anche quelli a pagamento alla fine appunto di questo mese sarà vostra decisione se avviare l'abbonamento o meno non sarà fatta in maniera automatica quindi con questo io concludo vi aspettiamo la prossima puntata anche lunedì prossimo e ringrazio te marino e ciao e buona giornata a tutti buona giornata a tutti